Nella mia testa continuavo a dire, ma com'è possibile in un paese come l'Italia ci sia una mortalità così alta sul lavoro? Tutti i giorni c'erano notizie di quel genere lì. E' come sembrato improvvisamente gratissimo, è come se quell'incendio lì fosse simbolico di tutto questo. Cioè, è una cosa che avviene tutti i giorni ed è una cosa terribile che avviene tutti i giorni. E quelle fiamme, quei morti, eccetera, è come se l'avessero sottolineato. Una serata per voi, una serata per chi ha a cuore la dignità e la sicurezza del lavoro. Lunedì 8 dicembre, la 7 torna a Torino per ricordare gli operai della ThyssenKrupp, con una edizione speciale dell'Infedele e con il bellissimo film di Mimmo Calopresti, La Fabbrica dei Tedeschi.